In Rojas e si chiede Polini! Un applauso grande! Andiamo, andiamo. Andiamo? Che dici? Andiamo? Vuoi dire qualcosa? Scusate, ma sapete chi sono questi? Veramente, non sapete chi sono? Non lo so, ci vuole un applauso più forte! Grazie a tutti! Questi sono 40 anni che vanno al taglio, ne hanno 30! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!